Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Prima del video vero e proprio inizio col nominarvi Bender e McSafari che sono stati sorteggiati tra quelli che hanno risposto in maniera corretta la domanda che vi ho posto nello scorso video E ricordate, se anche voi volete la possibilità di essere nominati all'inizio di un mio video seguite questo video fino al termine e alla fine vi porrò una domanda Rispondendo in maniera corretta potrete essere sorteggiati anche voi Quindi, nel video di oggi vi farò vedere 10 ragazzini che hanno talmente tanti soldi da parte dei genitori che non dovranno lavorare mai un giorno in vita loro Questi ragazzi sono i figli di ricchi imprenditori e uomini d'affari ed hanno uno stile di vita davvero esagerato Le loro giornate sono scandite da giri in costosissime macchine sportive feste e parti davvero esclusivi e viaggi in mete davvero da sogno Tutto questo ci viene mostrato tramite continue foto che vengono pubblicate sui profili dei loro social network così da far sbavare noi comuni mortali Elettra Lamborghini Elettra Miura Lamborghini è l'erede di una delle famiglie italiane più ricche e probabilmente il suo cognome vi dice già qualcosa Questa procace 22enne ha ammesso in un'intervista di essere molto selettiva nello scegliersi le amicizie e di non aver mai avuto amici poveri Ha inoltre ammesso di non sapere quante Lamborghini possiede avendo ormai perso il conto Ultimamente ha fatto i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando allo show televisivo di MTV Super Show al quale ha preso parte a detta sua per sperimentare qualcosa di diverso assieme a persone normali invece delle solite vacanze troppo lussuose Morgan Stewart Questa 27enne è una delle ragazze più ricche di Beverly Hills e di sicuro senza i soldi dei genitori non avrebbe lo stile di vita che ha adesso Morgan è la figlia di Herb Stewart un architetto di successo che possiede la propria compagnia edile con la quale ha costruito la maggior parte degli edifici di lusso di Beverly Hills Ma non è solo la mantenuta di papà è riuscita infatti a guadagnare circa un milione di dollari con il suo lavoro che include scrivere un blog che viene letto dai suoi circa 900.000 follower su Instagram Mark Francis Vandelli Figlio di una aristocratica russa e di un facoltuoso uomo d'affare italiano Mark Francis Vandelli è un altro dei 10 ragazzi più ricchi e famosi al mondo grazie al lavoro dei suoi genitori e dalla ricchezza della sua famiglia Macchine, elicotteri, destinazioni esotiche e parti esclusivi mostrati nelle foto del suo account su Instagram possono darvi una buona idea del sontuoso stile di vita di questo ragazzo Di certo c'è da notare che il Vandelli spende molto per l'abbigliamento e ci mette anche tanto impegno per apparire sempre nella posa perfetta durante una foto Serena Marron Quando tuo padre è un finanziere di Wall Street ci sono buone probabilità che tu sia una ragazza abbastanza ricca La ventenne Serena Marron ha postato migliaia di foto su Instagram per la sua fedele schiera di seguaci che amano seguire il suo sfarzoso stile di vita Nonostante lei dica che non le piace l'immagine di figlia di papà che si gode la vita che le è stata affibbiata non smette di postare foto di gioielli, feste esclusive e vacanze super lussuose Alex Bostanian Si descrive come un cittadino del mondo, un festaiolo ed un amante internazionale Il suo profilo Instagram sembra spesso il set di un videorep davvero coatto Alex Bostanian ama davvero mostrare la sua ricchezza e specialmente le sue macchine sportive, i costosi orologi e le bottiglie di Dom Perignon Infatti a giudicare dalle sue foto non c'è una stanza della sua villa nella quale non ci sia una bottiglia di champagne Erwin Johnson Questo ragazzo vive davvero una vita di alto livello Per cominciare dovete sapere che è il figlio della leggenda del basket Erwin Magic Johnson La sua fama ha di recente fatto un enorme balzo in avanti quando si è dichiarato gay Ha un patrimonio stimato di oltre 2 milioni di dollari Ma ciò che davvero attira i suoi follower di Instagram sono le foto del suo lussuosissimo stile di vita Tra vacanze, feste ed uscite in compagnia di celebrità Quindi non c'è da stupirsi se così tante persone seguano questo eccentrico riccone su Instagram Annabelle Schwartz Figlia dello sceneggiatore e produttore televisivo Josh Schwartz Da alcune foto sembrerebbe che la 23enne Annabelle Schwartz non gradisca tutte le attenzioni che riceve Quando alcune foto di una sua vacanza vennero pubblicate dalla pagina I ragazzi più ricchi di Instagram Ha mai infatti postare foto delle sue vacanze, dei parti che organizza e dei lavori che fa come modella Inoltre è anche una fashion designer e ha un patrimonio stimato di circa 14 milioni di dollari George Merck Non c'è molto da dire riguardo la montagna di soldi di George Merck Se non che lui è l'erede dell'impero della casa farmaceutica Merck Una delle più grandi al mondo Anche se si è impegnato per creare un marchio che produce scarpe di lusso personalizzate I suoi follower sono interessati solo alla sua vita da nababbo Con foto di panorami mozzafiato, autosportive di lusso e ragazze in bichini Jack Siebert Quando tua mamma fa la manager per gli attori di Hollywood E tuo padre, proprietario di una causa di produzione cinematografiche Probabilmente ti sei qualificato tra i ragazzini più ricchi al mondo Jack Siebert all'apparenza sembrerebbe un ragazzino delle superiori Ma scorrendo le foto del suo account Instagram si può vedere che ha uno stile di vita davvero adulto Aprendo costose bottiglie di champagne, rilassandosi sul suo yacht, mangiandone i ristoranti più esclusivi e viaggiando in tutto il mondo Maya Henry Devi per forza far parte dei ragazzini più ricchi al mondo se la festa per il tuo quindicesimo compleanno all'enorme costo di 6 milioni di dollari E per cantare tanti auguri a te vengono ingaggiati Pitbull e Nick Jonas Maya Henry è solo una matricola del liceo Ma grazie a suo padre, proprietario di un importante studio legale Questa ragazzina può vivere una vita da sogno Riempiendo il suo profilo Instagram con foto di lei in compagnia di grandi star Come Jamie Fox, Katy Perry e George Clooney Io sinceramente penso che non bisogna guardare a queste persone con desiderio o addirittura invidia Poiché si tratta di una piccolissima parte di fortunatissimi Noi persone per così dire normali non dobbiamo stare lì fermi a guardare e desiderare le cose di queste persone E pensare che noi non potremo mai ottenerle Ma anzi cercare di impegnarci al massimo con le possibilità che abbiamo In questo modo i risultati che otterremo saranno di sicuro più dolci e gratificanti Voi con un commento qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo E anche se magari qualcuno di voi ha una famiglia talmente ricca Che non dovrà mai lavorare un giorno nella sua vita E ora passiamo alla domanda di oggi Voglio sapere di chi è figlio Erwin Johnson E perché è diventato improvvisamente molto famoso Spero quindi che anche questo video sia stato di vostro gradimento In tal caso ricordate di lasciarmi un mi piace Condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici Se vi va aggiungetelo ai preferiti E noi ci vediamo al prossimo video